Abbiamo presentato questa iniziativa che è un'iniziativa della CGL nazionale in collaborazione con associazioni che si occupano di mafia, legalità, sia a livello nazionale che a livello locale come Arci, Lega Coop, Libera, l'associazione di Novara, la Torre Mattarella, le Acli, l'associazione nazionale magistrati, avviso pubblico e su esse impresa. È una legge di iniziativa popolare sul ripristino delle aziende sequestrate alla mafia, il nome della campagna si chiama Io riattivo il lavoro, perché la CGL ha voluto con questa iniziativa dare un segnale forte alla lotta alla mafia, soprattutto in un momento di crisi, pensando che agevolare un ripristino delle aziende confiscate alla mafia possa contribuire e aiutare innanzitutto a un ripristino della legalità, prima di tutto. E secondo, ridare occupazione ai lavoratori che a seguito della confisca rischiano per il 90% dei casi di perdere il proprio posto di lavoro. Molto prevente in che cosa consiste questo disegno di legge? Consiste in una reintroduzione della cassa integrazione, che ricordiamo è stata tolta dalla Ministra Fornero nella sua riforma, la cassa integrazione per le aziende confiscate alla mafia. Questo perché, come dicevo prima, il 90% delle aziende dopo il sequestro e la confisca falliscono, e quindi i lavoratori perdono il posto di lavoro. Con la cassa integrazione si vuole mantenere un sostegno al reddito e il posto di lavoro nell'azienda. Non c'è solo questo punto, ci sono anche altri punti che prevedono, per esempio, una premialità per chi invece investe nelle aziende confiscate. Quali premialità? Una premialità nell'accesso degli appalti pubblici, un sconto dell'IVA pari al 5% dei prodotti e delle prestazioni che loro forniranno, e la possibilità di attivare delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni per forniture, beni, servizi, eccetera. Questa legge prevede anche un fondo di accesso al credito, perché di solito con la confisca delle aziende c'è l'interruzione del credito delle banche verso queste aziende. Con questo fondo invece si vuole, nel momento in cui è intervenuto l'amministratore giudiziario a gestire l'azienda, permettere invece il flusso continuo del credito per poter fare investimenti e per poter continuare nella propria attività. Questi sono solo alcuni punti, il senso generale della proposta iniziativa di legge è proprio questo, si devono raccogliere in tutta Italia circa 50.000 firme per poter depositare poi le leggi in Parlamento, e quando ci sarà un governo che questa legge venga discussa e venga approvata, per poter dare un segnale forte nella lotta contro la mafia. Noi come associazione partecipiamo con molto volentieri a queste iniziative della CGL, che ci sembra importantissima, perché tutela due cose che sono fondamentali, il lavoro e il territorio. E' su questa base naturalmente che è il nostro interesse, l'interesse della nostra associazione spingere, fare tutto quello che possiamo fare a favore di questa iniziativa, perché se in Italia ci sono più di 1600 aziende che sono in questo momento sequestrate dalla mafia, però ce ne sono quasi dieci volte di più che potrebbero esserlo, se la Lombardia è al terzo posto tra le regioni italiane nelle quali ci sono più beni confiscati, e se in questo periodo di crisi sono aumentate il 65% i sequestri di aziende in tutta Italia, questo significa che si tratta davvero di una questione enorme per la ripresa economica del nostro Paese, e che va affrontata come giustamente la CGL ha intenzione di fare, attraverso una proposta di legge importantissima.